... Incidente sul lavoro nella giornata lunedì 8 maggio, poco prima delle 15, alla Osba in via Busano a Valperga. Un uomo classe 1969 di Valperga è precipitato da una pressa in manutenzione, compiendo un volo di circa 4 metri. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca del Canavese, il soccorso avanzato della Croce Rossa di Castellamonte, l'elì di soccorso del 118 e le forze dell'ordine. L'operaio ha riportato numerose fratture, un trauma cranico e uno alla colonna vertebrale ed è stato ritrasportato in codice rosso all'ospedale CTO di Torino, accertamente in corso da parte dello Spresal dell'Aso 84. ... ... ... ... Grazie a tutti.